Il mondo dello spettacolo quando sente Bustaglione apre tutte le porte questo sere, questo evento. Anche se dobbiamo dire che Freddie Junior è un grande anche lui, non ha solo un grande cuore ma è grande anche lui. Ma io ne conosco uno grande che si chiama Luca Madis che è lì adesso.